E allora, vi ricordate di noi, noi siamo i concorrenti di Ballando con te e per le prossime quattro puntate saremo con voi, speriamo che ci televoterete. Te le voterete? Te le voterete, sì! E vi presento queste fantastiche persone, queste fantastiche persone, ballerini non professionisti, con i quali ci sfideremo e conquisteremo la vittoria. Ella! Non lo seguirete da vincere, ma in più bravi siamo uno. Noi siamo simpatici, e loro? Noi non lo sappiamo cosa siamo. Guarda chi va, guarda io.